Ragazzi, se credete nella storia dei riscatti sportivi, state su Canale Giusto perché vi ricordate le migliaia di gol che prendevo. Era iniziato un altro torneo. Tre partite, due vittorie. La prima partita, persa 9 a 4. Poi la seconda, vinta 11 a 8. Stasera ragazzi, partiamo con ordine. La prima partita, il primo tempo è finito 7 a 1 per gli avversari e poi è finita 9 a 4 nel secondo tempo. Solo due vittorie presi. La seconda partita è finita 3 a 3 nel primo tempo e poi è un 11 a 8 finale. Quindi nel primo tempo ho fatto meglio. Ma oggi ragazzi è finita 10 a 4. Abbiamo vinto 10 a 4 e il primo tempo è finito 7 a 3. E nel primo tempo eravamo sotto 3 a 1. e poi è un nostro valoroso amico. Ha detto ad altri due di entrare. Ha cambiato la partita. Questi due non volevano molto entrare. 7 a 3 e poi 10 a 4 finale. Nel secondo tempo è un po' solo lungo da subito. Su sviluppi di calcio piazzato. Avrei spinto male. Quello ha segnato praticamente a porta vuota. Però i riscatti ragazzi. I riscatti. Siamo secondi nel girone. Un torneo un po' tipico. Perché c'è andate e ritorno. Poi il primo passo diretto in finale è la seconda e la terza se la giocano per andare in finale tipo una semifinale. Mancano tre partite di girone. Siamo secondi. Almeno tre dei primi che sono veramente una bella squadra. Tra l'altro è l'unica che viene da fuori. Da poi 10 minuti da bracciata. Però è comunque da fuori. Questa è la storia di riscatto del vostro torneo perché se ricordate bene vieni voi da un periodo difficile. L'altro torneo però in questo sto salvando la baracca. E poi ci sono i miei compagni che mi fanno gioire. Quindi ragazzi se credete in questa storia lasciate un like commentate iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti del vostro Danilo e Razzorro e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Grazie. 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 Grazie.